Gli azzurri giocano una partita monumentale ma non basta. I tiri di rigore ancora una volta premiano i nostri avversari e la Spagna centra la finale dell'Europeo. Oggi alle 18.30 in palio il bronzo contro la Francia. Basterebbe la parola applausi per sintetizzare l'encomiabile partita della squadra guidata dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci che si è resa 7-4 ai tiri di rigore alla formazione iberica. Contro una Spagna che godeva dei favori del pronostico, Giulio Cocco e i compagni non si sono fatti intimorire e hanno giocato 60 minuti senza mai tirarsi indietro, concentrati e capaci di limitare gli iberici nelle proprie costruzioni d'attacco. Purtroppo i tiri di rigore sono ancora portatori di brutte notizie come a novembre con la Francia nel Mondiale di San Juan. Tre errori in altrettanti tentativi, dall'altra parte 3 su 3 per i giocatori di Guillermo Cabestani. Gli azzurri sono stati tutti protagonisti anche se la voce grossa l'hanno fatta in particolare due atleti. Il primo è Andrea Malagoli, tre reti per lui e l'ultima arrivata a 46 secondi dalla fine dei regolamentari che ha portato il match ai supplementari. Il secondo è Riccardo Gnata, autore di diverse parate e decisivo a pochi secondi prima della rete di Malagoli con un intervento strepitoso che ha mantenuto il punteggio sul 4-3. Minuti anche per Alessandro Faccine ed Elia Cinquini, panchina per Nicola Sbarbieri e Morgan Antonioni. Oltre la tripletta di Malagoli, rete anche per il Vicentino Giulio Cocco. Sette gol totali per entrambi, ancora in lizza per il titolo di miglior marcatore dell'europeo. Pesa nell'economia della gara l'episodio a quota 19 minuti e due secondi del primo tempo. Carbaiei raccolpisce involontariamente Francesco Compagno sul volto con il bastone. Il giocatore esce con una vistosa ferita dalla pista e il direttore di gara mostra il cartellino blu all'esterno spagnolo, con la panchina azzurra a richiedere a gran voce il rosso. L'atleta azzurro ha giocato poi pochi minuti di partita e nella notte è stato costretto ad andare in ospedale. Per lui microfrattura al setto nasale che lo costringerà a saltare la Francia. In casa spagnola doppietta di Bargaio, gol di Carbaieira e Sergi Aragonès. Gli ultimi due ha referto ai rigori insieme a Ciavi Barroso. Per l'Italia errori di Giulio Cocco, Andrea Malagoli e Davide Gavioli. Grazie a tutti.